Ancora una tragedia nelle isole Egadi. A Favignane infatti ha perso la vita un sub che è stato colpito da Malore nel corso di una immersione guidata. La vittima è un uomo pugliese di 50 anni. A far scattare l'allarme attorno alle 14 di sabato il gruppo di amici con cui stava svolgendo l'escursione. Tre di loro in seguito al fatto sono stati colti da Malore per la veloce risalita in superficie. A recuperare il corpo ci ha pensato la guardia costera che una volta giunta a Trapani ha trovato l'assistenza del personale del 118 con medici rianimatori. Nonostante l'intubazione per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Da quanto appreso la causa del decesso sarebbe un arresto cardiaco dovuto a embolia polmonare. Il corpo adesso si trova a Marsala in attesa dell'autopsia.